Gli ambulanti di Anva Confesercenti Campania hanno annunciato per questa mattina dalle ore 8 alle ore 12 l'occupazione in segno di protesta dei posteggi in vari mercati della Campania, tra questi Casavatore, Giuliano, Caivano, Santa Maria Capovetere, Benevento, Via Bonazzi, Pomigliano d'Arco, Sarno, Nocere Inferiore, Battipaglia, Salerno Pastena, Salerno Torrione, Salerno Via Piave. La manifestazione prevede l'occupazione del proprio posteggio con l'apertura delle brande e delle tende ma non l'esposizione o la vendita delle merci. A Battipaglia erano presenti 8 commercianti che non hanno posizionato nessun camio e non hanno aperto neanche la loro merce. Sul posto la polizia locale con il comandante Gerardo Iuliano che hanno riscontrato una pacifica protesta in dissenso contro le normative del governo e della regione Campania che vietano la vendita di merce non alimentare. La protesta civile è fatta in modo oculato, noi siamo qui presenti sulle aree mercatari non solo di Salerno ma anche in altri comuni, abbiamo aperto i nostri stand e le nostre brand, non stiamo vendendo ma per far capire allo Stato che il problema non sono i mercati, anzi i mercati sono la soluzione del problema. Noi stiamo qui all'aria aperta, ci sono dei vari abbastanza ambi, non si formano assembramenti, possono essere rispettate tutte le misure per quanto riguarda il contenimento del Covid, quindi non riusciamo a capire perché vengono chiusi i mercati rispetto ad attività al chiuso. La nostra non vuole essere né una polemica né una guerra contro gli altri commercianti, assolutamente, però dobbiamo far notare questa disparità, come nel DPCM non si capisce perché chi vende abbigliamento intimo nel negozio può stare aperto, se lo vendi al mercato devi stare al chiuso. Quindi questo ci porta proprio ad una situazione di discriminazione delle attività commerciali.